Buongiorno, buon sabato. Ben ritrovati con la nostra rassegna stampa di mattino 6. Saremo un'ora insieme per leggere le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali e poi nella seconda parte, come di consueto, entreremo all'interno dei quotidiani di casa nostra per vedere quali sono le notizie che mettono in risalto, quali sono le notizie principali che arrivano ovviamente dalla nostra regione. Partiamo con le prime pagine regionali e iniziamo con le quattro prime pagine relative alle quattro province del quotidiano Il Centro. Partiamo ovviamente con la prima pagina dell'edizione di Pescara, il titolo malata di Alzheimer ai domiciliari. Pescara, 75enne, disabile, ha gli arresti, pensate, per non aver rispettato. Dieci anni fa un foglio di via. In alto, un richiamo alle questioni più prettamente nazionali e internazionali, malattia, più visite fiscali, una rete di medici in campo, ci sarà un giro di vite a partire già da settembre. E poi, una notizia, addio a Charlie, il bimbo che ha commosso il mondo, staccato il respiratore al piccolo bimbo che era malato e purtroppo non ce l'ha fatta, è stato staccato anche il respiratore. Torniamo a casa nostra per la fotonotizia che riguarda uno chef abbastanza famoso, Alessandro Borghese, che in Abruzzo, con il suo programma, quattro ristoranti e dice che gli arrosticini sono un cibo da re, insomma una certificazione anche da parte sua della bontà dei nostri arrosticini. Nelle cronache invece a Pescara, pugno di ferro del questore, spaccio tra i clienti, chiusi due barre nel centro di Pescara. Scendendo in basso e rimanendo sempre a Pescara, è sempre nell'ambito della cronaca, furti nei negozi, caccia alla banda del Trapano. E poi la polemica, Oddo Suzemann, grande tecnico ma come uomo, puntini puntini. Insomma poi per chi non avesse seguito questa polemica nella seconda parte, quando andremo all'interno delle pagine dello sport, capirete le parole di Massimo Oddo, che insomma ha fatto i complimenti a Zeman per le sue capacità di allenatore, ma come uomo, soprattutto nel rapporto con i colleghi, gli ha un po' tirato le orecchie. Rimanendo sempre in Abruzzo, vaccini obbligatori, ok alla legge, così la regione si riorganizza. Trasporto locale, D'Alfonso transa e chiude con 14 milioni, poi il rapporto Svimez in Abruzzo, la ripresa purtroppo è ancora al palo. Cambiamo edizione, andiamo sull'edizione di Teramo, dove cambia ovviamente il titolo principale, fallisce il gruppo Di Gennaro. Arriva la sentenza, i guai economici iniziati con la costruzione di Orsini 63 a Giulianova. Scendiamo a centropagina per entrare nelle cronache, la richiesta della provincia di Teramo, rinviare a dopo l'estate la verniciatura del traforo, soprattutto si parla dell'autostrada A24, il traforo del Gran Sasso da ritinteggiare con vernice bianca. Il presidente Renzo Di Sabatino e la provincia di Teramo hanno chiesto che i lavori vengano differiti dopo le vacanze estive. A Giulianova poi Marinai Morti, oggi il lutto cittadino e ci saranno anche i funerali congiunti di Elia Artone e Carlo Mazzi. Per lo sport, Teramo Calcio, lite tra i tifosi e il presidente Campitelli a Rivisondoli durante l'amichevole contro la Fidelisandria, vinta dai Biancorossi per 1-0. Andiamo sull'edizione di Chieti, Lanciano, Vasto, università meno tasse ai più bravi a Chieti e il rettore Caputi vara l'esonero totale della contribuzione anche per i redditi bassi, quindi non solo sgravi per chi ha una media migliore, ma anche esonero per i redditi più bassi. Paura Bucchianico, tir in bilico sul viadotto, 49enne salvo per miracolo e vedete una foto davvero che racconta più di tante parole? Il camion sul ciglio del ponte sulla Fondovalle Alento, sotto Bucchianico. Poi ad Ortona, strade franate, si circola a corsie ridotte a Vasto, intesa con Anas per la variante. Alla Statale 16. Terminiamo le quattro edizioni con quella di L'Aquila Avezzano Sulmona. Il titolo principale non poteva che essere Demolita la casa dello studente. L'Aquila ha iniziato l'abbattimento dell'edificio in cui persero la vita otto giovani la notte del sisma del 2009, ma di fatto la casa dello studente è diventato anche il simbolo del sisma 2009 che ha colpito l'Aquila. Nelle cronache, rimaniamo sempre nel capoluogo, commissioni, l'esercito degli 84 euro a seduta e questa è una delle commissioni riunite per la prima volta dopo le elezioni dell'Aquila. A Canistro invece, dunque, in Valle Rovetto, Santa Croce, Acqua Santa Croce, trovato un sito per il rilancio dell'azienda. E poi l'Aquila Calcio, Sidi Fioravanti, gestione Ponte, ovviamente, ma per un mese. Questo è Umberto Fioravanti, ieri c'è stato un incontro, si va verso, anzi c'è stata la fumata bianca, ci sarà questa gestione per 30 giorni e poi ovviamente si vedrà. Chiudiamo con il centro, centro, andiamo sulla prima pagina del messaggero, la cui apertura riguarda la sanità. Sanità promossa, ma Forza Italia non ci crede. Paolucci, livelli di assistenza a quota 182 e continuano a migliorare. Siamo in zona verde, il consigliere Febbo dice in Abruzzo, invece, una macelleria sociale. Voglio leggere i verbali. In atto, giorno e notte, finger food e fritti nell'estate degli stravizi. Calcio all'Aquila, come avete visto, Fioravanti accetta ma pone delle condizioni. E poi per il calcio, ma di serie B, Pescara, Memusciai e Bovo verso l'addio al nuovo Pescara. Memusciai diretto al Sionne di Tramezzani. Il secondo può svincolarsi, leggiamo, grazie ad una clausola. È richiesto da Crotone e Spal in serie A. Continuiamo a scorrere il giornale per entrare. Pescara, cronaca, spunta una pistola in casa. Arrestato il portiere, arrestato il parre del portiere, Silvio Fiorillo, bloccato a Genova. Papà di Vincenzo, portiere del Pescara. Il giocatore dice è un fulmine a ciel sereno. E poi l'Aquila, il simbolo tragico del sisma, giù la casa dello studente. Questi sono i lavori per abbattere proprio questo luogo simbolo del sisma. Torniamo a Pescara perché notte delle spaccate. In azione degli specialisti. Sono al setaccio anche i video per capire, ma da quello che si evince non si tratta di una bravata, ma di professionisti del settore. Chiudiamo le prime pagine della nostra regione con quella della città, il quotidiano della provincia di Teramo. di Gennaro Costruzioni è fallita. I creditori bocciano il concordato preventivo. Il giudice mette la parola fine al colosso di Tortoreto. Poi contestazioni a Palazzo, contro l'housing sociale, tensione ovviamente a Teramo con gli inquilini di Via Longo e dell'Ater. La fotonotizia riguarda lo Slow Food. Il Principe Carlo mangerà Teramano. A Natale i nostri prodotti tipici al Boromarket e dunque arriveranno anche al Principe Carlo. Torriamo sulla notizia della verniciatura del Traforo, bloccata per la sicurezza dell'acqua e poi a Roseto, Rosetani inferociti per i parcheggi. Ovviamente oggi Giulianova è in lutto per i marinai, oggi funerali dei due pescatori travolti dalla tempesta. Per il calcio il Teramo, Antonino Asta sbotta dopo l'amichevole, al Teramo dice servono dei rinforzi. Questo dopo, nonostante ci fosse stata la vittoria dei biancorossi. Cambiamo adesso, andiamo sulle pagine dei quotidiani nazionali, partendo ovviamente con il Corriere della Sera che apre con il caso Atac. la società dei trasporti di Roma Capitale, caso Atac via il direttore Roma, lo scontro con Raggi dopo l'intervista al Corriere sull'azienda dei trasporti vicino al Crac. Ritirate le deleghe, ma lui dice mi ero già dimesso, ho visto delle strane manovre. E poi, l'assedio Novax ai parlamentari, paura bene, e questi sono i manifestanti del movimento Novax, che assediano l'auto su cui si sono rifugiati tre parlamentari PD che hanno votato sì ai vaccini obbligatori. e poi scendiamo in basso per i cantieri Parigi, no ad attriti con l'Italia, l'insostenibile costo della linea Macron. E poi per i sondaggi, ovviamente di Nando Pagnoncelli, tiene il governo Gentiloni, sale la Lega Nord di Salvini. Dal Corriere della Sera ci spostiamo sulle colonne di Repubblica. Raggi, il sindaco di Roma, scontro nel Movimento 5 Stelle, così Roma va in tilt. L'assessore al bilancio, i capi grillini, scelti manager inadeguati, Atac, Via Rota, la sindaca mi ha chiesto di restare, ma, dice lui, ho paura. Politica internazionale, Libia, solo due navi in azione, e la nostra missione divide Tripoli, Londra, è finita l'agonia di Charlie, il Vaticano, Dio non stacca la spina. Sicuramente sarà una vicenda che continuerà a far discutere molto. Il messaggero, ovviamente qui siamo, le questioni romane sono molto affrontate in maniera molto più analitica. Lascio Atac, non pagherà gli stipendi, terremoto trasporti, raggi, toglie le deleghe al DG Rota, che replica, dimesso già da sette giorni, intervista al manager, l'azienda ormai è insolvente, attacchi del Movimento 5 Stelle, mi chiedevano di appalti. E poi, in Libia, missione antisbarchi, se attaccati risponderemo. Via Libera del Governo all'operazione, martedì ci sarà il voto al Parlamento. Vaccini, l'obbligo a scuola e legge, follia, no vax, tre deputati aggrediti, e l'analisi, l'oscurantismo dietro la protesta di quelli, e sono molti che sono anche molto disinformati. Il Fatto Quotidiano, Libia, Gentiloni scatena la flottina, Bonino, intese morte, in poche ore, questione migranti, tensione con Sarrai, il Premier, facciamo quello che ci hanno chiesto. E poi in alto, due notizie, una che riguarda la Thyssen, ancora liberi, due tedeschi condannati, i manager devono scontare otto anni per omicidio, ricorderete la vicenda della Thyssen Group. Roma, patto sull'acqua, trasporti, rota e fuori, disastri capitali, no arrazionamento idrico, vuoto dell'Atac, perché di un crack, busse la metro, le mangiatoie dei soliti politici. E poi politica, l'ultima ideona di Renzi, il PD come bad company. In basso si torna sulla questione vaccini, i vaccini neanche quelli per l'India, peripezia la Hasl, mentre la Camera approva il decreto Lorenzin. Il mattino, a Napoli dunque, bloccheremo gli scafisti, l'ambasciatore in Libia, al Sarrai, ci chiede aiuto da mesi, embargo da rivedere, si del governo alla missione, nostre navi, anche nel porto di Tripoli. Saliamo in alto, con due aperture, annuncia il suicidio su Facebook, spegne il telefonino e si dà fuoco, sciocca Bosco Reale, geometra accusa l'ex fidanzata, poi si uccide. Sempre ovviamente in campagna, Vesuvio, il macellaio piromane, le fiamme, dice, mi fanno impazzire, arrestato 24 anni con precedenti perrissa e una passione per le armi. Economia, export di prodotti DOC, l'Italia esclude il sud. In Canada e Cina, solo 4 marchi su 2, evidentemente, provengono dal centro-sud Italia. L'assalto dei Novax ai deputati PD calpesta anche il ruolo della scienza, il sì definitivo ai bacini obbligatori. Addio, Charlie ha commosso il mondo, l'annuncio dei genitori e in cielo il Vaticano dice, Dio non stacca la spina, come abbiamo già letto. E poi, per lo sport, vice reina, quante papere del Napoli, rischi del tire e molla nel ruolo decisivo per quest'anno e per il futuro. Ovviamente si parla di calcio. Libero, che apre con un avvertimento a Silvio Berlusconi, occhio agli amici, la resurrezione del Cavaliere è iniziata quando ha liquidato le damazze di cui si attorniava e ha recuperato i suoi uomini d'oro. Ora pare che gli si sia appiccicata una corte di tenentini sgomitanti. Ghedini, non li allevi, ma aiuti Berlusconi a liberarsene quelli che vengono definiti cerchi magici evidentemente per Libero sono una vera e propria maledizione. Centropagina, per compiacere l'abbonino coprono Gesù in chiesa. Complimenti al prete in basso. Lutto con Bettisa muore l'ultimo grande scrittore. Lutto per il giornalismo è la letteratura. Cambiamo giornale, la stampa. Vaccini, rivolta contro la legge, via libera definitiva alle nuove regole, aggrediti tre deputati del partito democratico. E poi invece per le questioni internazionali Macron attacca frontiere chiuse agli immigrati. Un piano con la Merkel bisogna riscrivere le regole di Schengen. Libia, l'Italia vota la missione di mezzata. Tim, non sarà francese l'intervista de Puyfontaine presidente a D con Mediaset buoni rapporti pronto al dialogo col governo sulla rete. I cantieri STX Parigi teme gli stati extra UE. La questione telecom sarà ancora molto dibattuta anche in questo caso. Il sole 24 ore rete team ecco che torniamo sull'argomento il nodo del controllo fin cantieri linea ferma Roma acquisizione in due tempi possibile mediazione le partite tra Italia e Francia. Riparte invece in economia la crescita americana nel secondo semestre PIL al 2,6% ma restano deboli i salari giù il dollaro e le borse europee il tempo acqua passata ora dicono che non c'è emergenza allarme rientrata ovviamente siamo a Roma tirate pure lo sciacquone hanno creato il panico fra i cittadini per poi scoprire che si può attingere dal lago di Bracciano la proroga ai prelievi scongiura i razionamenti e dimostra che i politici litigano senza sapere perché insomma molto ampia la spiegazione tra titoli e quant'altro della questione emergenza acqua insomma quello che abbiamo capito è che è più importante il dossier corte dei conti TG film e consulenze le cifre segrete della RAI e poi in politica parla Alfano e il centrodestra va fuori di testa dopo il colloquio con il tempo torniamo sulla vicenda vaccini fate 10 vaccini ai vostri figli passa la legge e chi era contrario ha picchiato tre deputati del partito democratico il secolo XIX anche qui la questione vaccini legge contestata a calci e pugni in Liguria insorge la regione niente sanzioni per conto dello Stato e sempre per quanto riguarda questioni di salute defibrillatori in campo scatta l'obbligo ma nessuno controlla è un caso invece per la politica internazionale torniamo sulla vicenda del presidente Macron presidente francese vuole una stretta alle frontiere il manifesto all'arrembaggio l'Italia si prepara a tornare in Libia dopo i dentennamenti del leader Sarrai a partire non sarà però una flotta come aveva fatto intendere Palazzo Chigi ma solo due navi Gentiloni e quello che ci ha chiesto Tripoli martedì la missione militare sarà al vaglio del Parlamento poi Roma compromesso sull'acqua sulla crisi idrica nella capitale interviene il governo e la regione proroga i prelievi a Bracciano vaccini al via aggressioni no vax approvato il decreto sulle vaccinazioni obbligatorie l'avvenire vaccinati a tutto via i nuovi obblighi per i bambini su dieci malattie il movimento no vax minaccia i deputati del partito democratico in alto ovviamente la tematica riguardante Charlie tra le braccia del padre il papa prego per i suoi Bassetti un nostro figlio lo definisce il secolo che invece richiama un centrodestra unito e poi in primo piano Hamburgo terrore islamico con il macete al market Sicilia Alfano bussa ma Forza Italia dice modello non è esportabile e poi Sarrai inganna Gentiloni non voglio le navi italiane questo è il secolo d'Italia vediamo con la verità il centrodestra candida Alfano per perdere pazza idea in Sicilia premesse eccellenti per le elezioni regionali nell'isola PD in crisi e 5 stelle azzoppati dal caos romano ma la Meloni appoggia Musumeci mentre Berlusconi vuole puntare sul ministro si rischia di sbattere ovviamente tanto spazio alla politica e poi addio Charlie ucciso i medici hanno staccato la spina al bimbo inglese per i giudici le tasse sono più importanti della legge fondato il ricorso contro la fusione di Equitalia e Agenzia delle Entrate ma il Consiglio di Stato non ferma comunque la riscossione caos immigrati mandiamo le navi in Libia ma non si è capito a fare cosa e poi interessi nazionali pure in Italia servirebbe uno come Macron e invece c'è Gentiloni chiudiamo anche con le pagine dei quotidiani generalisti per andare su quelli sportivi partendo ovviamente con la gazzetta dello sport che apre con questa che chiama con un fantastico gioco di parole pallotta avvelenata clamoroso scontro sull'asse Roma-Milano il presidente della Roma attacca il Milan e i suoi ex dell'Inter prima lo vedete è durissimo leggiamo con i dirigenti del diavolo hanno perso la testa dove trovano i soldi si era chiesto in un'intervista poi chiede scusa e allora evidentemente passa all'altra sponda del Naviglio Spalletti pensa solo ai media Sabatini troppi scambi però poi ci sono state anche le reazioni ovviamente alle parole di James Pallotta e non poteva essere altrimenti Fassone Sponda Milan sbalorditi per lo stile e quante imprecisioni dice l'amministratore delegato Rosso Nero rispondendo alle questioni sui soldi e poi invece Sabatini coordinatore dell'area tecnica di Suning Sponda Inter dice è confuso con me ha fatto 120 milioni di introiti insomma davvero una polemica a distanza sul doppio sull'asse Roma e le due sponde milanesi e invece ieri a Torino era il giorno di Federico Bernardeschi presentato alla Juventus il 10 me lo devo meritare sono religioso e allora sceglie la maglia lo vedete numero 33 in basso vediamo anche altre questioni che riguardano mercato e altri sport Antonello il nuovo amministratore delegato dell'Inter che dice è tra le top 10 ma c'è anche il mercato internazionale e c'è per esempio il caso Neymar litiga con Semedo in allenamento e non va in Cina e allora a questo punto il passaggio al Paris Saint Germain potrebbe davvero essere ad un passo nel mercato italiano invece Napoli non solo rulli l'idea è Zinchenko e poi parla il centrocampista Poli del Bologna che dice cresceremo insieme altri sport Ital Basket test contro la Bielorussia Hackett gioca dopo 8 mesi ma in questo fine settimana c'è anche il Gran Premio di Ungheria sorpresa Red Bull Ricciardo Guida il mucchio selvaggio in 6 in 5 decimi sono tutti attaccati in un circuito peraltro molto tortuoso dove è difficilissimo sorpassare quello dell'Ungaro Ring il Corriere dello Sport invece sceglie un'altra apertura dedicata al ruggito Inter vediamo perché è fatta per Vesino contratto di 4 anni pagata ai Viola la clausola da 24 milioni di euro Spalletti Blinda Perisic resterà qui con noi è difficile trovare un sostituto e l'intervista al nuovo CEO Antonello vogliamo ritornare a vincere in Italia e in Europa il centrocampista uruguaiano felice di ritrovare Borca Valero e Moratti consiglia di rafforzare la difesa un altro giocatore oltre a Dalbert in alto invece ci sono altre notizie per esempio che riguardano il Milan Montella dice un Milan speciale e spero di rimanere qui molto a lungo grandi manager e prospettive di crescita Bonucci è un top Biglia è super il futuro è nostro e poi invece la polemica pallotta contro le due milanesi soprattutto contro il Milan ha solo un piccolo spazio in alto pallotta attacca Fassone risponde e lui si scusa in basso Bernardeschi non mette la 10 Juve prima devo meritarmela Formula 1 a Budapest Ricciardo vola vette le rincorre oggi caccia la pole position a partire dalle ore 14 chiudiamo con tutto sport che ovviamente dà risalto alle questioni giuventine piuttosto che toriniste comunque alle due squadre torinesi c'è un'intervista a Giovanni Minoli che è un tifoso della Juve va preso un vero Big il popolare giornalista televisivo esorta i bianconeri a incidere di più sul mercato presentato Bernardeschi avrà la maglia numero 33 il caso vi spieghiamo perché il Milan può spendere questa è la spiegazione dopo l'attacco di James Pallotta vediamo anche le notizie in basso Torino mossa per Cutrone del Milan oggi testa Gengamp Inter Spalletti vede Vesino e trattiene Perisic per l'estero Neymar risse e fuga il PSG lo aspetta Formula 1 vette l'Ungheria teme di più Daniel Ricciardo ci fermiamo per la pubblicità prima però le previsioni del meteo per vedere il meteo di questo fine settimana e poi torneremo per entrare all'interno dei nostri quotidiani eccoci rientrati seconda parte di mattino 6 siamo pronti per entrare all'interno dei nostri quotidiani partendo ripartendo con il quotidiano il centro la pagina dedicata all'Abruzzo si parla di trasporto pubblico locale la regione sana i conti con 29 società la giunta chiude con 14 milioni e 600 mila euro un contenzioso che va avanti da 13 anni con i concessionari disposizioni comunitarie leggiamo necessario ricondurre al sistema l'intero panorama normativo adeguando nel contenuto anche alle regole ovviamente dell'Unione Europea BCC Roma crescono impieghi e utili la semestrale della banca di credito cooperativo il presidente liberati ancora più forti al servizio del territorio sempre sulla giunta regionale invece 10 milioni di lavori con i fondi del Masterplan cambiamo pagina andiamo a Peschiara droga per la movida spaccio tra i clienti chiusi due bar in centro la guardia di finanza entriamo un po' più nello specifico filma le cessioni di marijuana all'interno dei locali pugno di ferro della questura non è la prima volta licenze sospese per 60 giorni e sono vediamo nelle foto anche due bar del centro che sono stati evidentemente chiusi e poi la notizia di apertura invalida con l'Alzheimer ai domiciliari dopo 10 anni a 75 anni deve scontare due mesi di arresti in casa per aver violato un foglio di via ma è malata è su una sedia a rotelle e ha bisogno di uscire per le cure riabilitative e questo è l'avvocato Pasquale Dincecco che si occupa del caso appunto dell'anziana invalida sempre per la cronaca fa il pieno a scrocco e gli trovano sul camion sciabole accetta e mazza da baseball siamo a città Sant'Angelo faceva il pieno di carburante al camion vediamo se riusciamo a entrare meglio ecco qua ma con la carta clonata intestata alle società autostrade di Bari che se ne è accorta e ha denunciato lo strano ammanco levitato nel giro di due mesi a circa 30.000 euro sempre per la cronaca e rimaniamo a Pescara furti scatta la caccia alla banda del trapano le telecamere dei negozi presi di mira svelano i volti di un gruppo di giovani torniamo sulla questione degli inquilini di Via Lago di Borgiano le nostre case depredate dagli sciacalli gli sfrattati di Rancitelli scendono in strada hanno spaccato le porte rubato pc abiti termosifoni caldaie e finestre questa è le vedete le foto della protesta con megafoni e striscioni allora proprio su questo argomento ci vediamo il servizio della nostra redazione a un'amica mia poverina quattro persone le hanno atto una casa di 50 metri quadri ma dove si mettono? voi siete in albergo? no io sto da mio figlio ospite perché i cani non li accettano io ho i cani di taglia grande non li accettano ma hanno detto portali al canile al canile ci porto loro noi cani chiedono maggiore attenzione e rispetto i residenti delle palazzine Ater di Via Lago di Borgiano sgomberati dalle loro abitazioni a rischio crollo un rischio che i cittadini nel quartiere Arancitelli non sentono sulla loro pelle anzi molti di loro sarebbero disposti a rischiare e a convivere con gli scricchioli di quelle strutture pur di restare all'interno delle proprie abitazioni che raccontano hanno lasciato in fretta e furia portando via solo pochi effetti personali abbiamo subito uno sfratto immediato senza far capire niente a nessuno quando i palazzi non cascono nemmeno fra 80 anni perché il cemento ci sta inutile le pittere le rie le chiacchiere secondo hanno praticamente si sono parati il culo perché gli hanno detto che le palazze possono grullare quindi l'usine ha messo la firma lo prefetto mostramattini vediamo che cosa dice un'altra cosa noi stiamo in albergo e non è che potremmo lamentarci però ogni giorno telefonano alle 6 meno 10 alle 6 ci sta la riunione che poi questa riunione per assegnare perché ce l'hanno loro hanno le cartelle cliniche anche quelle mie noi siamo in tre a casa mia e io figurino non mi ricordavo le invalidità che avevo la signora che ha preso nota ha detto telefoniamo noi all'Inps quindi ci hanno tutto è un'altra questione dove discutere con lui il fatto del mangiare perché a noi arrivano manià la trasera era gruta 15 giorni fa era scotto questa mattina i residenti di Via Lago di Borgiano si sono riuniti in una manifestazione organizzata dalla lista Teodoro e dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli il corteo si è diretto in prefettura per esporre a Francesco Provolo tutte le problematiche che stanno vivendo le oltre 60 famiglie sgomberate molte delle quali con disabili che risiedevano nelle case popolari innanzitutto per l'autonoma sistemazione ci sono delle criticità che noi dovremmo sicuramente spiegare al prefetto per quanto riguarda anche il futuro di queste persone che cosa le attende qual è il loro destino sono tanti problemi che oggi metteremo sul tavolo del prefetto e poi c'è la questione di queste case che sono rimaste così forse c'è anche la scarsa manutenzione tra le cause di questa situazione purtroppo si è arrivata a questa cosa perché c'è la scarsa manutenzione assolutamente c'è questa situazione che ovviamente poi è pregiudicata e ha causato quello che ha causato vedete sono quasi 100 persone stiamo aspettando anche gli altri continuiamo la lettura del quotidiano sempre rimanendo a Pescara pistola carica dentro l'auto un cinquantenne finisce in carcere successo a Pescara scoperta dai carabinieri in via caduti di Nasseria l'arma era nascosta sotto un sedile e trovati anche 22 proiettili via gli esami del RIS per stabilire se abbia sparato di spalla contro gli allagamenti comune e attiva acquistano l'auto spurgo per i tombini ancora sempre a Pescara ritrova 450 euro grazie a due ragazzi del Bangladesh storie di generosità come ce ne sono tante purtroppo spesso poco reclamizzate a Montesilvano invece incendiato un deposito gomme a fuoco nel piazzale della ex Monti per il comune revocato il divieto di balneazione adottato dopo la pioggia di martedì scorso andiamo a Francavilla all'asterope tutto pronto per Frassica e la Bertè inaugurata la Fontana a Sant'Alfonso domani martedì concerti oggi gioiose emozioni giochi e laboratori in piazza e c'è la moto magna longa pianella in festa invece diventa capitale dell'olio a San Giovanni Tiatino nevicate il comune paga i lavori a quattro ditte scendiamo verso spoltore la croce rossa sale in bici domani pedalata della salute sempre a San Giovanni Tiatino Cinosi e Martelli passano con Salvini evidentemente parliamo di politica San Valentino sulla maiella tra prodotti tipici e pizzica a Montesilvano la corte dei conti proscioglie gallerati e altre tredici politici caso chiuso per un vecchio mutuo dell'ente manifestazioni i giudici gli amministratori hanno agito correttamente di spalla le polemiche sulle nomine di Mattia l'ex sindaco di Montesilvano ok alla muse in giunta dalla sinistra arrivano delle bordate e poi monumenti incappucciati contro il degrado di Roma l'ultima provocazione di Pep Marchegiani blitz romano dell'artista proprio nella capitale e poi concorso sempre a Montesilvano per dare un nome alla piazza sul Curvone Moscufo guasto alle linee isolati studi uffici e negozi la denuncia di un commercialista la rete bloccata da lunedì inaccettabile o pratiche scadenze importanti un danno enorme anche per i miei clienti appenne cade dalla scala un operaio è in ospedale stava lavorando sul traliccio quando è volato da circa sei metri sempre a penne l'interrogazione Movimento 5 Stelle troppi migranti appenne il comune fermi l'accattonaggio sulla discarica di bussi De Sanctis la bonifica resta lontana il forum H2O c'è ancora tanto da fare la caratterizzazione va estesa in basso bagni vietati nell'orta vertice in prefettura bolognano questo accade dopo le multe cambiamo andiamo a Chieti paura a Bucchianico in realtà tir in bilico sul viadotto 49enne salvo per miracolo sfonda il guardrail e resta sospeso nel vuoto trasportato in elisoccorso a Chieti e queste veramente come abbiamo fatto vedere prima sono due foto incredibili con il rimorchio che praticamente giù dal viadotto di fatto con le ruote che sono ancora sul ciglio della strada per le frane a Ortona si circola su una sola corsia carreggiata ridotta sulla provinciale che attraversa Villa Grande e all'università invece meno tasse per chi è più bravo il rettore Caputi vara per la prima volta esonero totale anche per della contribuzione per chi ha i redditi più bassi all'Aquila demolita la casa dello studente iniziato l'abbattimento dell'immobile cui persero la vita otto giovani la notte del sisma e viene come vi abbiamo detto prima identificato come davvero l'edificio simbolo di quella che è stata una vicenda che è quella del terremoto che continua ad avere purtroppo ancora oggi delle conseguenze diventerà il luogo della memoria leggiamo così come auspicato dai familiari delle vittime la progettazione sarà curata dagli allievi della facoltà di ingegneria recuperato anche l'albero di Natale messo lì nel 2009 dai vigili del fuoco verrà donata a una scuola il ricordo dei ragazzi che purtroppo non ci sono più e queste sono delle foto e ci sono ovviamente anche i familiari che di alcuni ragazzi morti nel crollo della casa dello studente a Teramo e poi cambieremo il giornale perché poi vedremo lo sport in entrambi edilizie in crisi a Teramo di Gennaro Costruzioni decretato il fallimento giovedì scorso la sentenza del tribunale che ha nominato curatore Nicola Rossi i guai della società sono iniziati con il complesso Orsini 63 a Giulia Nova e qui vedete Nicola Rossi curatore fallimentale questo è il famoso immobile di cui si parla Orsini 63 a Giulia Nova Lido cambiamo adesso quotidiano andiamo sul messaggero per entrare sulla pagina di Pescara cronaca notte delle spaccate video al setaccio la polizia a caccia degli autori degli undici colpi fra tentati e riusciti messi a segno l'altra notte a corso Umberto e dintorni ad agire in base alle prime immagini esaminate un gruppo di adulti non è stata una ragazzata si tratta di specialisti e allora vediamo una sola banda si legge dietro il ride con grande rapidità hanno colpito facendosi strada con un trapano indaga la squadra mobile e ovviamente i commercianti dicono non ce la facciamo più ci trasferiamo c'è rabbia e delusione per questa serie di colpi un po' tentati un po' riusciti insomma che turbano anche i commercianti controlli frequenti e lotta al degrado lotta al degrado e sbandati le richieste siamo disposti dicono a cofinanziare i sistemi di vigilanza e poi droga della movida chiusi i bar usati come base per gli spacciatori i provvedimenti del questore contro il coffee time e il ditizio dopo l'ultima retata delle fiamme gialle sempre a Pescara a spasso con un revolver arrestato nella rete dei carabinieri un cinquantenne con precedenti nascondeva nell'auto una Smith & Wesson senza matricola i carabinieri cercano di capire a questo punto le reali intenzioni dell'uomo negli ultimi tempi allarme per una serie di episodi che riguardano le armi e poi la notizia che riguarda il papà del portiere Fiorillo che è nei guai per una pistola e lui dice è come un fulmine la notizia arrivata da Genova ha raggiunto l'atleta durante la preparazione del ritiro con il Pescara a Montesilvano invece Maragno e Ribelli la pace bocciata dalle opposizioni vince il razzismo e invece bagni abitati al parco in arrivo una soluzione all'Aquila parcheggio e terminal autobus via la rivoluzione della sosta park per i residenti a canoni più bassi abbonamenti mensili e zone a disco orario alla villa comunale per ora non si paga capolinea di tutti i pullman a Collemaggio e per la guardia di finanza è Sergio Aloia il colonnello Sergio Aloia il nuovo comandante provinciale proprio dell'Aquila Degrado SM spazza via la discarica abusiva davanti a Santa Maria degli Angeli in basso spacca la testa al rivale in amore movida violenta un apprezzamento di troppo a una ragazza giovane ferito con una bottiglia spezzata casa dello studente anche qui ritorna la demolizione è iniziata una piccola folla davanti all'edificio sotto le cui macerie hanno perso la vita sono rimasti feriti tanti ragazzi la Presidente del Comitato delle Vittime Centofanti è un nuovo dolore dice ora tuteliamo lo spazio della memoria e poi invece sull'appalti e mazzetti che riguardano il sisma Giustino dice nessuna risata per gli affari del sisma non ho mai riso del terremoto in quella telefonata parlavo di altro questo dice Vito Giuseppe Giustino nel corso dell'interrogatorio di garanzia nell'ambito dell'inchiesta su presunte mazzette negli affari della ricostruzione che riguardano anche Amatrice tradizione ed orgoglio andiamo a Sulmona oggi la partenza della giostra cavalleresca dopo le prove generali ecco il via con la singola artenzone domani alle 18 le sfide decisive per l'assegnazione del palio ad Avezzano consiglio e cam arrivano le investiture scendiamo in pagina a pescassero i cuccioli di lupo uccisi da altro animale a Sulmona movida per la musica stop a luna ad Avezzano si cita l'assessore piccoli invasi per combattere la carenza idrica a Chieti torna sulle questioni universitarie meno tasse e maggiori servizi così l'Ateneo conquista gli studenti c'è l'esenzione totale dalla contribuzione per i redditi fino a 15.000 euro rettore Caputi faremo un database per case antisismiche a prezzi calmierati viadotto camion in bilico imprenditore miracolato anche qui la foto doppio schianto di quello che è successo sul viadotto master plan deliberati 3 milioni per la funicolare questo per le opere andiamo a Lanciano è tornata la banda delle casse forti maxi colpi in centro ripuliti in pieno giorno due appartamenti in via bianco in indagini della polizia rubati soldi gioielli orologi e pellicce i coinquilini sentono il rumore assordante di martelli in mola ma nessuno pensa ai ladri sul posto c'è la scientifica andiamo avanti per vedere la pagina di Teramo via Longo residenti in rivolta vogliamo restare a casa nostra gli abitanti sono presentati negli uffici della commissione urbanistica d'Alberto questo progetto realizzato sulle spalle delle famiglie teatro romano serve subito un commissario si torna sul caso del teatro romano e poi vernici al toluene rinviate i lavori sull'autostrada il presidente Renzo Di Sabastino ha sollecitato la governance dopo i dati della ASL cambiamo adesso andiamo sulle colonne della città proprio quotidiano della provincia di Teramo per vedere quali sono le principali notizie e partiamo proprio con bloccata e rinviata la verniciatura del traforo la provincia chiede a strada dei parchi di sospendere i lavori in attesa dei nuovi protocolli di sicurezza i pompieri invece sistemano la torre danneggiata dal fulmine a colonnella rimossi mattoni coppie e pietre pericolanti dopo il distacco della croce alla sommità della vela campanaria a Teramo contestazione in comune contro l'housing sociale tensione a palazzo per il malcontento dei cittadini delle case popolari di via lungo e degli inquilini Ater questa è la commissione con il sindaco e l'assessore misticoni i cittadini che assistono ai lavori c'è anche la protesta in municipio e per il teatro romano invece ci sarà un commissario Gian Guido D'Alberto e Giuliano Lucenti critici con le lentezze del progetto di recupero i 10 milioni della funivia cambiamo argomento anche alla CONA la giunta regionale ha rimodulato i fondi del masterplan rifiutati dal comune di Teramo per l'università ecco i 10 milioni che andranno 3 milioni alla funivia di Chieti 2 milioni e mezzo centrale Enel con 2 milioni a prati di Tivo 1 milione e 600 mila euro alla bretella di Alanno 500 mila euro alla viabilità sulla Val Pescara in provincia le Gadit rivendicano il controllo sulla caccia dura replica del presidente Gaetano Ercole al presidente regionale di Federcaccia Ermanno Morelli e poi la notizia che apre di fatto il giornale la Di Gennaro Costruzione è fallita il giudice Cirillo scrive la farola fine su una delle più grandi imprese della provincia il colosso di Contrada Salino si è visto rifiutare la proposta di concordato da parte dei creditori poi per la cronaca ad Alba Adriatica ubriaco maltrattava il suo cagnolino 33enne denunciato dalla polizia sempre ad Alba Adriatica droga in giardino convalidato l'arresto dello spacciatore invece a Martinsicuro un po' Vucumpra un po' spacciatore arrestato la guardia di finanza ha pizzicato un senegalese pieno di precedenti penali la tragedia dell'Egliana ovviamente siamo a Giulianova in lutto per i due marinai oggi alla chiesa di San Pietro Apostolo i funerali di Elia Artone e Carlo Mazzi annegati martedì durante la tempesta le ricerche prosegue il lavoro della guardia costiera per individuare e recuperare il relitto dell'Egliana disperso tre miglia al largo del porto vediamo anche delle foto lo striscione della curva ovest del Giulianova Calcio sul molo nord sulle onde del cielo continuerete a navigare c'è scritto su questo striscione dedicato ai due marittimi purtroppo scomparsi commercio sempre a Giulianova botte risposte polemiche sui mercanti estivi sulla scuola accorpati gli asili nido del Lido a Roseto invece i rosetani sono inferociti per i parcheggi la proposta sconti residenti con i canoni per bus e tir in piazza Marco Polo e poi allora adesso visto che siamo arrivati praticamente di fatto allo sport ci entriamo proprio nelle pagine dello sport ripartendo con il centro e vedete alle mie spalle Scintille Oddo Zeman grande allenatore ma come uomo il tecnico bianco azzurro il boemo ha dato tanto al calcio tuttavia dovrebbe imparare a rispettare i colleghi leggiamo l'allenatore sul suo passato quella che ho ottenuto con la squadra della mia città è stata la vittoria più bella rancori no e ringrazio la società ma le colpe bisogna dividerle vediamo adesso se riusciamo a trovare la parte eccola qua che parla proprio di Zeman e ci andiamo ha dato tanto al calcio italiano ed è sempre stato un punto di riferimento per tutti noi i giovani lo sarà sempre ma anche un passaggio al veleno un grandissimo sarebbe anche un grande uomo se riuscisse ad avere più rispetto dei suoi colleghi vedremo poi se ci sarà l'eventuale risposta di Zeman a queste dichiarazioni di Oddo Zeman che martedì dopo l'amichevole con il teramo ha detto non voler parlare più della Juventus chissà se vorrà invece parlare di queste dichiarazioni di Massimo Oddo per il mercato la Sampdoria pensa a Ben Ali oggi scatta il ritiro di Palena se i Liguri cedono Scic allora il Libico può finire in Liguria Biraghi alzassuolo e poi una notizia che è di sport ma è di cronaca ma riguarda purtroppo uno sportivo come Fiorillo il padre di Fiorillo finisce in manette come abbiamo già detto in Lega Pro Campitelli tifosi Teramo ovviamente lì è in tribuna calendari il 10 agosto a Pescara il Teramo batte l'Andria in amichevole ma il patrono viene aggredito verbalmente all'ex aurum invece la presentazione del cammino dei tre gironi della nuova serie C e proprio in relazione a un giocatore che in questo momento in Maglia Teramo il Francavilla tenta Sansovini intesa con l'alcione per il vivai ovviamente aspettando che il ripescaggio in serie D sia ufficiale in eccellenza lo spoltore ingaggia tre spagnoli e sono Vera Sanchez e Pacchito eccoli qua i tre giocatori spagnoli dello spoltore ma ritorniamo al Teramo Coppa Italia il 6 agosto contro la Fermana si gioca a Fano andiamo avanti le abruzzesi di serie D il focus sulle squadre ma ovviamente il titolo centrale per l'Aquila Fioravanti e Soci si condizionato per prendere l'Aquila lunedì via la preparazione dei rosso-blu di Battistini nel frattempo i nuovi dirigenti esamineranno il bilancio Casa Avezzano Tarantino torna a casa c'è un Ruti a Caramanico il programma invece dei test San Nicolò Virtus San Nicolò precampionato definito a Pineto in arrivo anche il portiere Antonucci nel pomeriggio ci sarà un test in famiglia Nero Stellati domani la prima chimichevole a Campo di Giove Basket tifosi in società ovviamente siamo a Teramo per aiutare la palla canestro a Teramo l'associazione degli irriducibili entra con il 30% della nuova SRL bianco-rossa il Giulianova invece ingaggia l'Ala Preti Attilio Verrini è il nuovo coach del Nuova Campli andiamo adesso sulle colonne del messaggero per vedere Memushai e Bovo ripartiamo dal Pescara in partenza al Pescara comincia l'ora delle dismissioni centrocampista pronto a passare al Sion il difensore tra Crotone e Spal per la difesa il Nuovo e l'Abruzzese del Grosso Coda e Mazzotta potrebbero restare nel gruppo di Zeman e poi le parole di un ex portiere Giuseppe Gatta ex grande portiere del Pescara in epoca Galeone dice Pigliacelli e Fiorillo sono una coppia super parola ovviamente di Gatta oggi la squadra riabbraccia Palena oggi comincia la seconda parte del ritiro bianco-azzurro a Palena che si concluderà sabato prossimo poi ci sarà la Coppa Italia domenica 6 per i bianco-azzurri di Zeman Serie D l'Aquila Fioravanti sì ma son di garanzie per un mese ovviamente ci sarà una gestione Ponte e invece a Teramo i rinforzi sono in arrivo a sta sollecita la società dopo la vittoria in amichevole sulla Fidelissandria di misura Patron Campitelli contestato dai tifosi il 6 agosto in Coppa Italia contro la Fermana il Real Giulianova amichevole di lusso oggi contro la Ternana il tecnico Piccioni convoca 24 giocatori si gioca in Umbria proprio a Norcia notturna del podismo con 500 partecipanti dopo lo stop dell'anno scorso si riprova oggi ovviamente siamo a Penne e poi in basso per il basket Sharks vertice in comune con Cimorosi che è dimissionario e poi chiudiamo con le pagine di sport del quotidiano La Città Foggia gol ovviamente il Teramo in apertura ma a sta sbotta servono rinforzi il Teramo vince di misura l'amichevole di Rivisondoli in Coppa Italia esordio il 6 agosto contro la Fermana le dichiarazioni di Asta che ha detto che si aspetta dei rinforzi importanti anche a partire dalla prossima settimana per il basket la metateramo conta anche sugli irriducibili presentata ieri mattina l'associazione che sosterrà la squadra bianco-rossa il nome dicono non è stato scelto a caso e sono già 30 i soci iscritti in basso in serie D rinnovamento ed equilibrio la ricetta per il Pineto di Amaulo allenatore biancazzurro confermato dopo la salvezza dell'anno scorso parla della rosa a sua disposizione con questa notizia chiudiamo mattino 6 che ritorna lunedì mattina sempre puntuale alle ore 8 io vi auguro una buona giornata ovviamente noi torniamo con il TG alle ore 14 mattino 6 come detto torna lunedì dopo il weekend è tutto buona giornata a l'anno scorso Grazie a tutti